E' un giorno storico per la Gran Bretagna, chiamata a decidere con il referendum se rimanere o meno nell'Unione Europea. 45 milioni di cittadini e le urne, seggi aperti dalle 8 alle 23 ore italiana, l'esito è incerto con i sondaggi che danno un testa a testa fra il Leave o il Remain. Il paese arriva al voto in un clima atturbato dopo l'omicidio della deputata laborista Joe Cox lo scorso 16 giugno da parte di un estremista di destra. Ieri, giorno in cui avrebbe compiuto 42 anni, si sono svolte numerose cerimonie in Gran Bretagna e non solo. A Londra, sul Tamigi, l'imbarcazione con a bordo la famiglia della Cox è stata seguita da una barca di fiori, cerimonie anche a Betley, la sua città natale, a Bruxelles in Svizzera.